Il 2017 sta rappresentando un momento fondamentale per la generazione Erasmus con la celebrazione dei 30 anni del programma e l'Agenzia Nazionale sta veramente dimostrando la propria efficienza a livello di territorio. La fondazione Garage Erasmus ha portato avanti una serie di collaborazioni durante questo anno che si sono concretizzate con la realizzazione della carta della generazione Erasmus che è stata consegnata al ministro Fedeli riportando quelle che sono state le opinioni dei ragazzi che hanno avuto la fortuna di affrontare un'esperienza internazionale. Come fondazione abbiamo cercato poi di ripartire da quelli che sono stati gli ottimi risultati a livello italiano anche a livello europeo. Il 30 di novembre presenteremo a Bruxelles insieme alla Commissione i risultati di un processo che ha coinvolto tutte quante le nazioni coinvolte nel programma Erasmus per dare i suggerimenti per quella che sarà la stesura del nuovo programma Erasmus che inizierà nel 2020. Questi sono i buoni esempi che dobbiamo portare all'estero, sui quali dobbiamo continuare a fare gruppo, sinergia e continuare ad avviare le collaborazioni perché insieme possiamo veramente puntare a cambiare l'Europa.